Giornata di incontro e formazione Giuseppina Marelliana presso il Santuario Maria Santissima dello Starpeto a Barreta. Gli operatori pastorali degli oblati di San Giuseppe del Sud Italia a confronto sul tema importante, la famiglia. Celebriamo questo work in progress, giornata di incontro e di formazione Giuseppina Marelliana per tutti i nostri operatori pastorali. Per cui sono presenti qui catechisti, animatori d'oratorio, famiglie, laici che vivono al fianco degli oblati di San Giuseppe e che provengono da tutta la nostra realtà, da Roma, da Riccia, Campobasso, dalla Campania, dalla Puglia. Cosa facciamo? Ci stiamo confrontando su una parte del nostro carisma e della nostra spiritualità. E quest'anno la particolarità è che abbiamo scelto come tema comune quello proprio della famiglia, del vivere l'uno non accanto all'altro, ma l'uno per l'altro. Ecco perché anche nella testimonianza che ci offrono i nostri amici e coloro che stanno guidando questa giornata, ci sono delle testimonianze fatte da una famiglia, da un giovane impegnato, da un consacrato. Era già nel cuore del nostro fondatore San Giuseppe Marello l'idea di una famiglia allargata, dove ci fossero i consagrati, ci fossero i laici, ci fossero le persone che si impegnano per portare avanti il Vangelo sotto lo sguardo di San Giuseppe.